Quarta puntata per la serie Noir Nero in onda il mercoledì alle 23.05 su Tele Libertà. Nell'episodio che verrà trasmesso questa sera e che è intitolato Una cosa malata, la signora d'amico imporrà al figlio Adamo di trovare un sostituto che prenda il suo posto, in quanto lui si occuperà di affari più importanti. Realizzata ad Agatha Film con la regia di Giuseppe Piva, la sceneggiatura di Giosuè Cremonesi e la fotografia di Ettore Sola, la serie è trasmessa in prima visione su Tele Libertà. Verrà distribuita in decine di emittenti locali e regionali, particolarmente apprezzate le musiche, la colonna sonora originale di Gabriel Minuta e di Lilith and the Sinner Saints che hanno dedicato alla serie due brani dell'ultimo album Revoluce. La visione di Nero è consigliata ad un pubblico adulto, tutte le puntate vanno in onda e replica ogni domenica alle 23.00. come il sangue dei ribelli.